Sabato di gare per la Final Cup qui a Ortona in Abruzzo a inaugurare praticamente con la WSK questo nuovissimo circuito internazionale d'Abruzzo un impianto veramente strabiliante, vediamo qui siamo al centro del paddock diciamo in prossimità della pista si è appena svolta la prima manche della KZ e devo dire che è stata una gara incredibile ha visto davanti a tutti il Tony Kart di Patrick Hayek seguito dal Cosmic Kart, sempre motore Vortex di Armand Converse e poi Marco Erdigo lì davanti a davvero dare spettacolo ci ha pensato anche Bas Lammers con il Praga con i nuovi colori della Praga per questa gara poi chissà l'anno prossimo non ha rivelato ancora se correrà per intrebido Praga poi molto bene anche Toninelli, molto bene con il Luxor ovviamente, Toninelli che sappiamo rumori di mercato ci dicono già in partenza verso la Bira e il Motorsport per il 2012, sarebbe un ottimo saluto quello del pilota italiano nei confronti del team siciliano della Factory siciliana e poi ancora Giuseppe Annunziata con il Formula K lì davanti sempre anche lui un grande spolvero direi inaspettatamente quasi, Ardigo che ha condotto la gara anche per qualche giro poi tutto a un tratto si è visto sfilare il primo posto dai compagni dei cuginetti di colore della Vortex poi ha cercato il recupero ma nulla da fare, ha vinto Hayek davanti a Converse, Ardigo lammers annunziata, Toninelli, Zanchetta, Jan Midra per quanto riguarda l'ottava posizione e poi Joy Hansen e degli compagni anche lui molto bene nei primissimi giri di gara quest'oggi ancora le manche, vi aggiorneremo con l'andare del tempo per quanto riguarda anche KF2, KF3 e Mini e a fine giornata vi daremo le classifiche intermedie prima poi di domani di vedere appunto le pre-finali e le finali quindi solo pre-finali e finali domani Grazie